Il libro è stato scritto Allo scopo di suggerire, vorrei quasi dire, a imporre a tutti coloro che lo leggano, siano dentisti, igienisti o anche assistenti, che è molto importante imparare a comunicare con la gente. Però alla base di tutto questo c'è il concetto fondamentale che noi dobbiamo saper fare tutto ciò che abbiamo studiato dal punto di vista della nostra specialità, sia specialità medica, sia specialità odontoiatrica, sia specialità come ASO. Quindi non è che io inviti la gente a chiacchierare invece che saper far bene il loro lavoro. Io dico semplicemente a partire dal vostro lavoro, che di sicuro sapete fare benissimo, imparate anche a parlare. Questo è un po' il primo concetto. Ma il secondo concetto che potete andare a vedere a pagina 17 è che l'articolo 20 del nostro codice deontologico prescrive che noi, con il paziente, dobbiamo stabilire un'alleanza nella quale comunicare è già fare terapia. Ecco quindi la ragione del titolo. Comunicando noi già impostiamo un'attività terapeutica. E questo è il punto al quale io tengo moltissimo, altro che azzardo. Comunicando noi già impostiamo un'attività terapeutica.